come stai e forse oggi stai bene prego di sì ma nella vita forse oggi forse non oggi ma nella vita ci sono i problemi normali ma ci sono pesi particolari pesi speciali pesi che ci affliggono a volte abbiamo dolori profondi che non sempre ci sentiamo neanche liberi di esprimere ad un altro a volte abbiamo paure paure una carissimi amici nostri la moglie è stata diagnosiata con pieno di cancro sono giovani parecchi più giovani di noi e il merito ha detto ci ha scritto dicendo sai a volte vengono pensieri di paura e so che cristo è con noi ma sai dopo anni anni decenni di matrimonio il pensiero che tu congigi forse morirà può mandare paure paure di tanti tipi quello è un esempio paure che ho perso il lavoro come faccio per curare mia famiglia non ce la faccio ci sono paure di tanti tipi a volte abbiamo pesi pesi sul cuore a volte abbiamo un peso terribile che serve peso di colpa colpa questo è un peso terribile il senso di colpa a volte parecchi persone che conosco genitori con figli non più piccoli che dicono quello che vedo è colpa mia è poca mia perché non vedevo o peggio ancora perché non facevo quello che dio mi aveva mostrato che dolore profondo la colpa è un peso insopportabile a volte abbiamo amarezza amarezza per quello che abbiamo subito a volte abbiamo dolore causato dalla perdita di una persona cara a noi a volte tramite la morte a volte non tramite la morte a volte cadiamo nel peccato e non sembra possibile uscirne esco e ricado esco e ricado e questo mi aggrava il mio punto è abbiamo tanti pesi certo ci sono i pesi di tutti i giorni ma ci sono questi pesi ancora molto di più molto più grande abbiamo pesi e solo dio può togliere i pesi solo dio può togliere i pesi e darci vera pace nel cuore però non andiamo sempre a dio abbiamo bisogno di dio ma non andiamo sempre a dio perché perché non andiamo a dio quando abbiamo pesi come ho elencato che sono terribili perché non andiamo a dio a volte abbiamo timore di andare a dio magari più volte ho peccato troppo peccato troppo quante volte ho sentito questo no non posso andare a dio dopo tutte le volte mi ha già perdonato ma adesso non oso più andare a lui magari ci vergogniamo ci viene in mente che non vorrà più accettarci dopo tutte le volte che sono caduto o forse pensiamo che sia lontano non abbia cura di noi ci sono tanti motivi pensieri falsi che possono tenerci da andare da lui ma se noi non andiamo a dio in qualunque dei pesi che ho elencato e altri è perché noi non conosciamo il cuore di dio in gesù cristo ed è perché non conosciamo il valore del sacrificio di gesù cristo a volte non andiamo a dio perché a noi sembra che Dio sia lontano sembra che non ci abbia al cuore sembra importante quella parola a volte non andiamo a dio perché dubitiamo del suo amore non andiamo a dio perché siamo così allontanati che a noi sembra impossibile tornare a dio uno che non è credente non va a dio a volte perché dice no da anni non ascolto dio lui mi ha parlato anni fa ma io ho sempre rifiutato adesso non mi accetterebbe hanno questo falso concetto di dio ci sono tanti motivi per cui uno non va a dio ma nessun motivo è valido nessun motivo è valido perché dio ci invita di andare a lui più che invitare ci comanda di andare a lui dio ha mandato gesù cristo dal cielo a diventare uomo proprio per aprirci la porta di di poter andare a dio a dio gesù chiama il peggior peccatore di andare a lui per il perdono quindi se tu pensi ma ho peccato troppo c'è romani 5 20 che dice ora la legge intervenne affinché la trasgressione la grazia è sovra abbondasse ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovra abbondata la legge intervenne cioè sappiamo forse di essere peccatori ma quando cominciamo a conoscere la legge di dio capiamo molto di più quanto siamo peccatori ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovra abbondata questo è la grazia di dio che offre perdono al peggior peccatore la grazia di dio in gesù cristo è così immenso che non esiste peccato tranne il rifiutare cristo dove non c'è perdono dove non c'è perdono cioè quando dico rifiutare questo il peccato contro lo spirito santo quando lo spirito santo ti mostra in modo chiaro non solo intellettualmente ma nel cuore come aveva fatto ai farisei e loro accusavano gesù di aver scacciato demoni con il potere di belzebub allora quello era rifiutare lo spirito santo avevano visto i miracoli sapevano che era da dio sapevano che lui era il cristo e lo rifiutavano prego che possiamo oggi capire di più un pochettino un pochettino di più il cuore di gesù cristo molto spesso si riempiamo la testa a conoscere dottrina che è importantissimo a capire i comandamenti per camminare bene importante ma sotto tutto quello dobbiamo conoscere il cuore di gesù prego che possiamo comprendere meglio che possiamo andare a gesù cristo per ricevere perdono e salvezza ma non solo possiamo andare a cristo per ricevere conforto per ricevere pace nelle prove e consolazione per ricevere guida nelle decisioni per ricevere forza nella nostra debolezza per essere liberati dalla colpa e per molto di più gesù chiama le persone a sé venite a me ma chi è chi chiama che tipo di persona chi può andare a gesù tutti o solo certi non tutti non tutti allora chi può andare a gesù forse non chi penseremo gesù stesso ci dà la risposta leggo da matteo 9 13 ce lo dà in più brani ma leggo qui spiega perché è venuto al mondo per chi è venuto al mondo serve meglio dire è venuto per chiamare le persone alla salvezza in sé stesso che qui viene chiamato al ravvedimento allora chi viene chiamato? leggo ora andate a rimparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio perché io non sono venuto per chiamare al ravvedimento i giusti ma i peccatori Gesù è venuto per chiamare al ravvedimento alla salvezza i peccatori non è venuto per i giusti allora la bibbia ci spiega che non ci sono giusti ma ci sono coloro che si ritengono giusti e gesù non è venuto per chi si ritiene un giusto è venuto per chi dice no io non sono un giusto io sono un peccatore ho bisogno del perdono Gesù è venuto per i peccatori quelli che si riconoscono peccatori Gesù è venuto per te se tu riconosci di non essere un giusto per il tuo merito ma piuttosto un peccatore che non merita nulla di buono da Dio se tu ti arrabbi con Dio perché non ti perché non mi ha dato questo perché ha permesso quello allora Gesù non è venuto per te perché a quel punto ti consideri giusto da meritare da Dio e Dio non ti ha dato quello che avrebbe dovuto darti ha permesso la morte di quella persona cara a te ha permesso quella situazione ingiusta non è giusto perché Dio ha permesso questo allora a quel punto tu ti ritieni giusto di avere un merito Gesù non è venuto per i giusti è venuto per i peccatori oh signori sono un peccatore non merito il bene tutto il male che mi arriva non è il male che merito merito peggio di quello Gesù è venuto per i peccatori grazie a Dio in Matteo 18,11 leggiamo una cosa simile parlando di se stesso con il titolo il figlio dell'uomo e dice poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto chi può andare a Gesù è venuto per chi è perduto che vuol dire chi sa di essere perduto ci sono persone che dicono va bene sì sì quello era peccato sì sì pecco non sono mica perfetto ma non si ritengono perduti Gesù non è venuto per quelle persone Gesù è per chi dice no ho peccato contro Dio e questo mio peccato mi condanna davanti a Dio sono perduto Gesù è venuto per i peccatori che sanno di essere perduti è venuto per salvare i perduti tu vedi il tuo bisogno di Gesù Cristo quando leggiamo che Gesù è venuto è venuto non è solo un atto come tutti nascono inizia la sua vita con il concepimento no Gesù è venuto dal cielo per prendere l'umanità ha lasciato la sua gloria è venuto per soffrire sulla croce e morire per peccatori è venuto per persone peccatori che sanno di meritare la condanna eterna in Romani 5 leggiamo che Dio mandò Gesù per salvare i peccatori nemici persone che non avevano alcuna forza alcuna capacità spirituale di salvare loro stessi quindi voglio leggere Romani 5 da 5 a 10 questo brano ci aiuta a capire di più il cuore di Dio notate l'amore di Dio per peccatori incredibile leggo or la speranza non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato perché mentre eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per gli empi difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto forse qualcuno aderebbe morire per un uomo da bene ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi molto più dunque essendo ora giustificati nel suo sangue saremmo salvati dall'ira per mezzo di Lui infatti se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio molto più ora che siamo riconciliati saremmo salvati mediante la sua vita quanto è importante che ci fermiamo per considerare il cuore di Dio nei nostri confronti Gesù non è venuto per salvare delle buone persone persone che avevano qualche merito o bravura Gesù è venuto per salvare i peccatori che erano dice il brano senza forza senza alcun merito non avevano da offrire Dio se tu mi salvi se tu mi aiuti se tu mi consoli io ti darò questo no questa è gente senza forza si va a Dio sapendo che Dio accoglie non chi ha qualcosa da offrire accoglie chi ha fede quindi quando la grandezza del tuo peccato ti fa dubitare di poter andare a Cristo per il perdono ricordati che Gesù Cristo è venuto per peccatori peccatori che erano morti nel loro peccato senza alcun merito questo è il cuore di Gesù perciò anche oggi tu cadi tu puoi andare a Gesù questo è il suo cuore nei salmi troviamo tantissimi esempi dove il salmista si trova in situazioni terribili con pesi immensi ma lui conosceva il cuore di Dio e sapeva di poter rivolgersi a Dio per aiuto il salmista conosceva il cuore di Dio e tramite i salmi come possiamo noi conoscere il cuore di Dio sapeva che il cuore di Dio è tale che Dio accoglie chi viene a lui con un cuore umile e mansueto tantissimi leggo un salmo che mostra il cuore del salmista la feducia che ha che può andare a Dio salmo 57 leggo i cinque i primi cinque versetti che ci mostra il cuore di Dio tramite quello che Davide prega Davide qui chiede pietà da Dio allora nell'Antico Testamento pietà è quello in uso italiano normale mentre nel Nuovo Testamento pietà ha quel senso di reverenza verso Dio qui pietà è quella misericordia quel cuore che arde per la persona in sofferenza e Davide chiede quello da Dio perché sa quello è il cuore di Dio leggo questo salmo questi pezzi versetti ricordate che ci sta mostrando il cuore di Dio in come Davide prega Davide sta fuggendo da Saul quindi era in terribile pericolo Davide ricordate ero innocente ma Saul cercava di ucciderlo tante persone villaggi città che Davide aveva salvato lo avevano tradito quindi la situazione sua era terribile non aveva nulla da offrire a Dio non aveva nulla da offrire a Dio ma conosceva il cuore di Dio leggo inori Davide quando in seguito da Saul fuggì nella caverna abbi pietà di me o Dio abbi pietà di me perché l'anima mia si rifugia in Te mi rifugio all'ombra delle Tue ali finché siano passate le calamità griderò a Dio l'Altissimo a Dio che porta compimento ogni cosa per me e li manderà dal cielo a salvarmi e gli iscrida a colui che vuole divorarmi Dio manderà la Sua benignità e la Sua verità l'anima mia è come in mezzo ai leoni dimora tra gente che vomita fuoco in mezzo a uomini i cui denti sono lance e dardi e la cui lingua è una spada affilata si innalzato al di sopra dei cieli o Dio risplenda la Tua gloria su tutta la terra Davide conosceva il cuore di Dio e Dio non è cambiato anche noi possiamo andare a Dio nelle afflizioni più profonde nei dolori più pesanti con la sofferenza più grande e che noi veniamo con il cuore di Davide Dio ci accoglierà mi colpisce che oltre a riconoscere il cuore di Dio Davide prega si innalzato al di sopra dei cieli o Dio risplenda la Tua gloria su tutta la terra Davide in mezzo alle sofferenze voleva la gloria di Dio non pregava solo aiutami 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 signori sostienimi e glorificati questo era il cuore di Davide quindi in quello e tanti altri brani leggendo la Bibbia notate il cuore di Dio in tanti brani vediamo effettivamente che Dio invita i bisognosi quelli con il cuore afflitto di andare a Lui con mansuitudine con fede umilmente ma di venire a Lui dove Lui darà sollievo molto spesso quando o non abbiamo Dio una persona che non ha Dio oppure quando non stiamo guardando a Dio arriviamo ad avere un cuore molto amareggiato arriviamo ad essere consumato con le ingiustizie della vita situazioni in casa situazioni con i vicini situazioni del lavoro situazioni della società le ingiustizie ci portano perché non stiamo guardando a Dio ci portano ad avere un cuore amareggiato e i pesi diventano impossibili a sopportare e ci schiacciano voglio leggere solo due brani che ci mostrano questo tipo di cuore il secondo brano ci spiega dove guardare per essere liberato da questo angoscia e amarezza anche il primo anche se non leggo il versetto leggo per primo Samo 73 i primi tre versetti l'autore è un credente che cerca di camminare per fede però la sua vita è dura e guardando intorno a sé da quello che lui riesce a capire e le cose non sono sempre come sembra sembrano ma la vita dei peccatori sembra essere molto più facile della sua cioè la sua vita è molto pesante e osservando gli ingiusti dice ma loro stanno molto meglio di me allora che cosa serve seguire Dio che cosa serve io che cerco di seguire Dio con tutto il mio cuore e loro stanno meglio di me molto meglio questo è il cuore amareggiato che è a lui leggo i primi tre versetti certamente Dio è buono verso Israele verso quelli che sono puri di cuore ma quanto a me quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi strucciolassero perché portavo invidia ai vani gloriosi vedendo la prosperità dei malvagi un cuore angosciato e lui solo va avanti parlando di questo e dice che non capisco non capisco è difficile finché non sono entrato nel tempio e ho considerato la fine di costoro finché non ho considerato il giudizio finale è quello che sta dopo e che qui non importa niente perché è un vapore e c'è solo tormento dopo ma io sono salvato per grazia quello che serviva a lui era una prospettiva eterna finché guardava solo a quello che vedeva in quell'istante era turbato dovevo guardare in avanti infatti lui non ha rinnegato Dio ha guardato a Dio e Dio ha detto ma guarda il giudizio finale ha detto hai ragione signore certamente andiamo avanti tanti salmi ma un altro che voglio solo menzionare salmo 37 un cuore turbato vedendo le ingiustizie del mondo le persone malvagie che stanno bene salmo 37 leggo i primi sette versetti è simile non affliggiti a motivi dei malvagi non portare invidia a quelli che operano perversamente perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde confida nell'eterno e fa il bene abita il paese e coltiva la fedeltà prendi il tuo diletto nell'eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore rimetti la tua sorte nell'eterno confida in lui ed egli opererà egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì sta in silenzio davanti all'eterno e aspettalo non affliggiti per colui che prospera nella sua via per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni questo salmo parla del cuore afflitto o ci avverti contro avere un cuore agitato afflitto per l'ingiustizia e la malvagità intorno a noi ma notate la soluzione è lo stesso e di confidare nell'eterno trovare il tuo diletto in lui e ricordare il giudizio questo vuol dire andare a Dio con i tuoi pesi non tenerli per te vai a lui signore signore è difficile e lui dice vieni a me guarda quello che farò ti ho già annunziato trovi il tuo diletto in me tu stai cercando il tuo diletto nel fatto che io posso risolvere adesso quei problemi non è il momento per mi risolvere quei problemi trovi il tuo diletto in me non nella risalezione di quelle ingiustizie io giudicherà ma non è ancora il momento trovi il tuo diletto in me rimetti la tua sorte in me cosa vuol dire quello vuol dire mi fidi di quello che tu mi darai mi fidi di quello che tu mi farai mi fidi di dove mi metterai mi fidi delle prove che mi darai questo è il senso di rimetti la tua sorte nell'eterno confida in lui quanto spesso non abbiamo pace perché non rimettiamo la nostra sorte nell'eterno ma vogliamo noi controllare vogliamo che sia come vogliamo noi invece di dire no signore accetto sta in silenzio davanti all'eterno e aspettalo non affliggerti per tutto quello che ti circonda vai a lui con i tuoi pesi ma vai a lui come abbiamo letto in Matteo 11 o abbiamo letto lì no Gesù parla di quello vedremo allora ci sono due modi di vivere effettivamente possiamo cercare di stare bene in base alle circostanze o possiamo cercare di stare bene stare bene onestamente possiamo stare bene fidandoci di Dio possiamo cercare nelle circostanze che vuol dire mai un vero bene perché le circostanze in questo mondo di peccato non vanno mai sempre bene oppure possiamo dire signore rimetto le mie sorte nelle tue mani mandami pure tutte le prove che tu sai di essere quelle giuste mi fido di te confida in lui vengo a te con il mio cuore afflitto e troverò la pace in te solo in Gesù Cristo andiamo a Dio per mezzo di Gesù Cristo sappiamo questo e non importa quanto è grave il peso Gesù è capace di portarlo per noi a volte vediamo la gloria di Dio magari la potenza di Dio la santità di Dio ma non vediamo il cuore di Dio quanto è importante vedere il cuore di Dio in primo Samuele 12 il popolo di Israele riconosceva di aver peccato contro Dio avevano chiesto un re con il cuore sbagliato e a quel punto avevano timore di andare a Dio invece di rivedersi e andare a Dio si allontanavano da Dio leggo in primo Samuele 12 18-19 c'è il profeta Samuele con loro allora Samuele invocò l'Eterno e l'Eterno mandò quel giorno tuoni e pioggia e tutto il popolo ebbe gran timore dell'Eterno e di Samuele tutto il popolo quindi disse a Samuele prega l'Eterno il tuo Dio per i tuoi servi affinché non abbiamo a morire perché abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati il male di chiedere per noi un re hanno timore ma non vanno a Dio loro prega tu per noi non capiscono il cuore di Dio non capiscono il cuore di Dio Dio non li ha distrutto meritavano quello ma no aveva un piano per loro e non li ha distrutto la mia preghiera oggi è che possiamo comprendere di più l'amore di Dio ma Dio è anche giusto e come può questo grande Dio santo e giusto accoglierci quando veniamo con peccati che devono essere puniti allora noi conosciamo bene perché perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo in Gesù il peccato ci viene tolto se andiamo a lui con umiltà in Giovanni 1,29 Giovanni Battista sta parlando con uno dei suoi discepoli e passa Gesù e Giovanni dichiara il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo siamo peccatori e il nostro peccato in sé ci separa da Dio e non possiamo presentarci a Dio pieno di peccato però Gesù Cristo è venuto per sacrificarsi per pagare la condanna del peccato Gesù Cristo è venuto per togliere il peccato da addosso e liberarci dal nostro peccato in modo che possiamo essere riconciliati con Dio per avere libero accesso a Dio giorno e notte quando Gesù Cristo è andato alla croce era sulla croce nel corpo ma nello spirito è entrato nel santuario in cielo Gesù era sulla croce ma lui è andato in cielo nel santuario per presentare sei stesso a Dio Padre come pagamento e alla fine ha gridato è compiuto, è pagato il prezzo ma voglio leggere in Ebrei 9 24 a 28 dove spiega quello che Gesù ha fatto quando il corpo era appeso alla croce Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo figura delle cose vere ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo ma ora una sola volta alla fine delle età Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso e come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio così anche Cristo dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza molto importante quello che abbiamo appena letto Gesù Cristo è intratto nel santuario in cielo per offrire se stesso come prezzo per pagare per il peccato ha compiuto quello una volta per sempre non si può ripetere è per quello che la cena del Signore non è un risacrificare di nuovo Gesù ha già pagato il prezzo e fate questo dice Gesù in memoria di me fate questo per ricordare quello che ho fatto quell'unica volta una volta per sempre allora visto che Gesù è entrato in cielo per pagare la condanna del peccato quando pecchiamo possiamo andare a Dio perché Gesù ha pagato posso dire Signore a volte prego di no ma a volte è da anni che tiro avanti questo senza averlo confessato mi vergogno no, guarda a Cristo guarda a Cristo magari prego di no ma a volte non confessiamo un peccato o dei peccati e accumulano accumulano ma il sacrificio di Cristo è più grande e tu puoi andare a Dio umiliati e vai a Lui abbiamo visto adesso quello che Gesù ha fatto voglio vedere di più il cuore di Cristo e anche del Padre prima già nell'Antico Testamento vediamo il cuore di Dio in tanti tanti brani ho letto come Davide aveva capito il cuore di Dio voglio leggere proprio il cuore di Dio in Isaia 55 leggo versetti 1 a 3 e poi salto a versetti 6 e 7 tenete conto che di natura spendiamo cosa spendiamo? spendiamo le nostre forze spendiamo il nostro tempo spendiamo le nostre capacità la nostra intelligenza i nostri soldi spendiamo per comprare quello che crediamo può soddisfare il nostro cuore ma spendendo così stiamo peccando perché stiamo spendendo noi stessi per ottenere quello che secondo noi sarà bello mi farà contento ma è un peccato questo perché stiamo dicendo che Cristo non è la cosa del più grande valore e in questo brano Dio ci chiama a venire per ricevere gratuitamente l'unica cosa che può soddisfare il nostro cuore sta parlando della vera salvezza che noi sappiamo di essere in Gesù Cristo e lui dice perché spendete per quello che non soddisfa no leggo o voi tutti che siete assettati venite alle acque e voi che non avete denaro venite comprate e mangiate venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gustarà cibi succolenti porgete l'orecchio e venite a me ascoltate e l'anima vostra vivrà ed io stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide versetto 6 cercate l'eterno mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino lascia limpio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'eterno che avrà compassione di lui è il nostro Dio che perdona largamente vedete vedete il cuore di Dio vedete il cuore di Dio Dio chiama peccatori chiama l'uomo iniquo di andare perché Dio avrà compassione Dio perdona largamente questo è il cuore di Dio Gesù Cristo che è Dio incarnato in Matteo 11 28 a 30 vediamo il cuore di un grande salvatore che ama salvare ama prendere quel peso di colpe di peccato che ci schiaccia e ama togliere via e sollevarci voglio leggere le parole di Gesù Matteo 11 28 a 30 venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime perché il mio gioco è dolce il mio peso è leggero questo è il cuore di Gesù il nostro peccato ci affligge il nostro peccato ci poter essere travagliati danneggia tutto il nostro peccato danneggia noi stessi danneggia la vita danneggia le persone intorno a noi e ci macchia e quando finalmente ci apriamo gli occhi e capiamo il peso del peccato Gesù ci fa vedere il suo cuore qui quando siamo aggravati e travagliati dal nostro peccato Gesù dice venite a me prendete il mio gioco imparate da me venite a me con fede perché andiamo a lui prendete il mio gioco confessando i vostri peccati imparate da me Signore ho bisogno da te accetto quello che mi dici rimetto la mia sorte nel Signore e Gesù dichiara che darà non darà ma già dieci volte che vieni no e già cento no dice che ci darà che cosa troveremo che cosa riposo per le anime nostre oh grazie a Dio guarda il cuore di Dio in Cristo che offre quando siamo aggravati e travagliati ci offre il riposo per le anime nostre non c'è nulla che vale più di quello questo è il cuore di Gesù Cristo anche Giovanni 6 voglio tanti posti tanti posti mostrano il cuore di Cristo ma leggo questo brano Giovanni 6 da 35 a 40 tutto capitolo è meraviglioso e notate le varie volte che lui parla di coloro che vanno a lui che vengono a me dice Gesù seguitemente leggo da 35 a 40 Gesù disse loro io sono il pane della vita chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete ma io ve l'ho detto voi mi avete visto ma non credete tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me perché io non lo caccerò fuori perché io sono risceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e questa è la volontà del Padre che mi ha mandato che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno questo infatti è la volontà di colui che mi ha mandato che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno qui Gesù dichiara chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete se andiamo veramente a Gesù il nostro cuore sarà pienamente soddisfatto perché avremo in Gesù perdono avremo il suo amore avremo la sua pace avremo la vita in abbondanza la vita avrà i suoi problemi pesi ma non cercheremo la gioia in quelle cose più e allora avremo un cuore soddisfatto poi Gesù dichiara una cosa molto molto stupendo colui che viene a me io non lo caccerò fuori questo è il cuore di Gesù chi viene a Gesù compreso con un cuore umile per fede io non lo caccerò fuori lotterò per sempre sarà pienamente accolto da Gesù Cristo il peggior peccatore che viene a Gesù umilmente e con fede sarà accolto è perdonato il peggior peccatore il peggior peccatore il peggior peccatore possiamo aggrapparci noi a questa verità possiamo dire questo agli altri non importa quanto è peccato Gesù ha pagato se tu vai a lui riceverai perdono Gesù non caccerà mai fuori chi va veramente a lui grazie a Dio Gesù Cristo offre la salvezza a tutti e chiunque riconosce di essere un peccatore è perduto e si umilia va a Gesù con tutto il cuore sarà perdonato sarà salvato questo è il cuore di Gesù andando avanti un capitolo Giovanni 7 la grande festa religiosa a Gerusalemme davanti a tutta la fola Gesù si mette in piedi per invitare tutti ad andare a lui e notate che parla a tutti coloro che avevano sette nell'anima lui sta dicendo se tu riconosci la mia anima non è soddisfatta c'è un vuoto lì che nulla nel mondo può soddisfare perché nulla nel mondo può soddisfare il vuoto nell'anima tua notate che Gesù dice venite a me leggo versetto 37 di Giovanni 7 ora nell'ultimo giorno il grande giorno della festa Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come ha detto la scrittura dal suo seno scorcheranno fiumi di acqua viva ora egli disse questo dello spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui Gesù si rivolse a tutta la folla e si sta rivolgendosi a noi e ci invita ad andare a lui per avere il cuore soddisfatto allora per andare a Gesù devo riconoscere che sto cercando al di fuori di Gesù in tutto in tutto quell'elenco che ho letto all'inizio di cose che ci pesano sul cuore la morte di una persona amarezza perché c'è ingiustizia intorno a noi il peso del nostro peccato e tutti i problemi paure in tutte quelle cose non stiamo guardando a Cristo non stiamo guardando a Cristo magari stiamo urlando aiutami 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 ma urlare pregare così non è guardare a Cristo non stiamo guardando a Cristo e Gesù dice venite a me togliete gli occhi dal resto e guardate a me smettete di guardare altrove smettete di ricercare altrove guardate in me e non riceverete un bel bicchiere di acqua cosa dice quanto riceverete voi che avete sete non un bicchiere no dal seno della persona che va a me scorcheranno fiumi di acqua viva quello soddisfa la sete il cuore sarà pienamente soddisfatto quando andiamo a Gesù di cuore e possiamo andare a Cristo a Dio Padre per ogni peso per esempio la consolazione la vita qui è piena di sofferenza è giusto soffrire quando una persona cara muore per esempio è giusto cioè la morte è una cosa brutta non c'era la morte quando il mondo è stato creato non è una cosa buona leggo secondo Corinzi capitolo 1 da 3 a 5 che ci parla della consolazione che riceviamo da Dio Padre benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo il Padre delle Misericordie è il Dio di ogni consolazione il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione tanto qui ma solo menziono i nomi di Dio qui il Padre delle Misericordie è il Dio di ogni consolazione questo è il cuore di Dio questo è perché possiamo andare a Dio perché questo è il suo cuore e ci consola mi colpisce in ogni nostra afflizione quando abbiamo Cristo Dio non ci lascia mai soli io posso sentirmi solo ma mi sento quello che non è la realtà Dio è con noi in ogni sofferenza ci consola per mezzo dallo Spirito Santo sempre Gesù Cristo è stato tentato che vuol dire provato in ogni cosa senza peccare perciò come il nostro grande sommo sacerdote può simpatizzare con noi in ogni afflizione e in Gesù Cristo abbiamo libero accesso al trono della grazia per ottenere misericordia e ricevere grazie per ricevere l'aiuto giusto sempre grazie a Dio al momento opportuno Dio sa quando è quel momento questo è il cuore di Gesù Cristo questo è il cuore del Padre allora la mia preghiera la mia preghiera è che possiamo tutti vedere più l'amore di Dio in Gesù Cristo prima di tutto prego per coloro che non conoscono Cristo io dico il tuo peccato è grave più di quello che ti rendi conto davanti a te c'è il giudizio davanti a te c'è la separazione eterna Dio il trumento nulla di cui è importante importa scusate nulla importa alla luce di quello è un inganno ma oggi se tu corri a Gesù Cristo non hai domani hai oggi se tu corri a Gesù Cristo oggi ravvedendoti riconoscendo oh peccato contro di te Dio è pronto a perdonarti in Gesù Cristo e Lui sarà il tuo Signore e il Salvatore prendi il suo gioco riposati in Lui ma forse tu sei credente ma sei caduto forse no sono caduto ormai è troppo tardi no non è troppo tardi vai a Gesù torna a Gesù lascia il tuo peccato torna a Cristo troverai perdono perché questo è il cuore di Dio e troverai la pace che non hai forse il tuo cuore è afflitto con i problemi o qualche dolore o qualche ingiustizia o qualche grande perdita Cristo ti chiama vieni a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e cosa troveremo riposo per le nostre anime proprio quello che ci serve troveremo la consolazione del Padre di ogni misericordia Dio di ogni consolazione troveremo questo è il cuore di Dio qualunque sia la tua situazione qualunque sia il tuo dolore qualunque sia il tuo peso non ti senti dire a nessuno puoi dire a Dio e Lui ti ascolterà e Lui ti accoglierà devi andare umilmente devi rimettere la tua sorte nell'eterno mi fido di te di quello che farai ma Lui ti darà la consolazione di cui hai bisogno Gesù è andato alla croce e tramite Lui possiamo sempre andare a Dio Padre quindi chiudo leggendo di nuovo l'invito che ho appena letto da parte di Gesù venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime perché il mio gioco è dolce e il mio peso è leggero preghiamo Padre nostro santo 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 e glorioso Dio che incredibile che oltre ad essere santo e glorioso che sei sei misericordioso sei il Padre di ogni consolazione Padre delle misericordie e di ogni consolazione o Padre incredibile questo grazie perché tu sai che abbiamo bisogno di consolazione abbiamo bisogno di misericordia e tu sei pronto a darci questo perché questo è il tuo cuore tu sei pronto a perdonare hai mandato Gesù proprio per poter perdonare incredibile grazie grazie che è vero quanto spesso abbiamo portato pesi noi inutilmente quando avremmo potuto venire a te perdonaci per la stoltezza ma grazie che ci sei e possiamo venire a Gesù Cristo e trovare il perdono la consolazione la guida la forza la pace di cui abbiamo bisogno grazie per questo Padre non c'è nessuno come te grazie che siamo preziosi per te grazie per quello che hai fatto in Gesù Cristo grazie per la porta aperta al tuo cuore proprio adesso grazie che non siamo soli se abbiamo Cristo e se uno non ha Cristo può avere Cristo se si ravvede Padre ti ringrazio e ti prego questo e prego che sarà alla tua gloria e ti prego nel nome di Gesù Cristo Amen Amen